Musica 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 Benvenuto a Dentro la Scatola Format del Calcio Foggia 1920 Per raccontare i protagonisti di questa stagione 2022-2023 Non solo in campo, insomma Vi osserviamo molto bene nelle vostre prestazioni della domenica Qui invece cerchiamo di raccontarvi per quello che siete fuori dal rettangolo verde Moses, benvenuto Partiamo con la prima immagine e la commentiamo insieme Grazie Cosa vedi sul tablet? Ghana Il Ghana è il tuo paese È casa tua Se ci racconti, insomma Innanzitutto, immagino, ti manca molto casa tua Se ci torni E come sei arrivato iniziale, insomma, la tua storia? Quando io stavo in Ghana Quando stavi giocando campionato Con la mia squadra in Ghana Te mi aiuti E' venuto qualche procuratore Per vedere qualche nostro partita Contro qualche squadra di Sudafrica Dopo la partita Lui è venuto a casa mia Ha detto che voglio portarmi in Italia A quale firmare il contratto con Chievo e Verona E poi hanno andato a quale con la mia squadra in Ghana E poi ho firmato quel contratto E poi due mesi dopo Io devo andare a giocare qualificazioni Per il Nazionale 17 E poi il Nazionale dice Ho qualificato loro per andare a mondiale E poi quando ho andato a mondiale Ho fatto bene a mondiale E accordo che è andato a mia squadra in Ghana Con Chievo Mia squadra in Ghana Dice loro vogliono più soldi Perché ho fatto un bel mondiale E poi per fortuna Ho venuto in Italia con Chievo E poi è successo un casino Con mia squadra in Ghana con Chievo Perché mi voleva Manchester, Tottenham Tutta questa squadra E poi mia squadra in Ghana Il mio presidente ha portato Qualche procuratore di Tottenham E poi lui ha portato Il mio standard di Liege E poi dopo l'auto È andato a Catania E poi mio padre ha parlato Con il mio presidente in Ghana Ha detto Guarda devi prendere questo soldi Perché il mio figlio è piccolo 16 anni Deve prendere questo soldi Se no Lui non posso fare il futuro Perché poi alla fine Il mio presidente ha accettato E poi è formato per Catania Non so, è una storia davvero lunghissima Eh sì, molto lungo Leggendo i giornali nazionali Quando è periodo di calcio mercato Si dice sirene su Quindi potremmo dire Tante sirene c'erano Su Moses Auger Però c'è una particolarità Che ti riga Al Ghana Alla squadra Che tu hai citato Il Tama E tu giocavi lì Con tuo fratello Giusto? Sì, sì Con mio fratello Lui gioca ancora a calcio? Sì, mio fratello ancora gioca Ancora gioca in Ghana Ma mio cugino Ora gioca in Arsenal Ah Mio cugino Ho giocato pure Mio cugino e mio fratello Mio cugino ora sta in Arsenal E mio fratello gioca in Ghana E sarebbe? A St. Thomas Ok, ok Quindi una storia davvero Molto molto lunga Sì, molto molto lunga Dietro di Thomas Auger Ti chiedo di andare avanti Con la prossima immagine Perché Si tratta di un'altra Di un'altra terra Potremmo dire Di un altro territorio A te molto molto caro L'hai appena citato Ed è la Sicilia Tu arrivi in Italia Inizi a giocare Con il Catania Poi tante esperienze Il Trapani Il Palermo Se ci racconti insomma Che valore ha per te La Sicilia Se non sbaglio Anche il tuo legame affettivo Il tuo legame amoroso È legato alla Sicilia Quando ero venuto Stavo a Catania È una città bellissima Sembra Sto in Africa Mangia bene Vivi bene Gente Gente bravissima Mi trovo molto molto bene A Catania Molto molto bene Pure a Palermo Pure è uguale Gente brava come Catania Ambiente fantastico Tifosi Bellissimo Vivi bene con famiglia Hai vissuto molto il sud Italia Perché tra le tue esperienze Oltre Catania Trapani Palermo Salerno Ora c'è Foggia Come ti trovi qui al sud? Diciamo che io sono abituato al sud Perché ho mai giocato al nord Sono Chievo Ma ho mai fatto niente per loro Mi piace questi sud Perché sto bene Sembra sto a casa Sto molto bene al sud qua Dal sud Territorio A quello che tu hai conquistato con il sud Quindi andiamo avanti con la prossima immagine E c'è una coppa Giusto? Sì Tu hai vinto nel calcio Hai vinto qualche campionato potremmo dire Quindi se racconti a tutti i ragazzi Che ti stanno seguendo Che giocano a calcio Che hanno dei sogni legati al calcio Cosa si prova a vincere? Devi sognare Devi lavorare Devi lavorare Devi lavorare Perché non è facile Arriva qualche momento Che l'allenatore non si considera Perché tu pensi di stare bene Ma non stavi bene Non devi mollare Devi continuare a lavorare E sicuro arriverà il tuo momento E alla fine Puoi aggiungere il tuo sogno Aveva un sogno Mosi Sojer Prima di arrivare in Italia Quando eri in Ghana? Sì Qual era? Quando eri arrivato in Italia Qua per giocare in Serie A E in Ghana Per ora Devi chiamarmi Il nazionale grande E ancora C'è questo sogno vivo Perché sto lavorando Tutti i giorni Per questo momento Sto cercando Per portare Foggia In Serie B Speriamo che Se portare Foggia In Serie B Non mi metti a parte Come mi hanno fatto a Palermo Tu hai parlato di Foggia E quindi andiamo avanti Con l'altra immagine Perché sei tu In divisa di allenamento Che ti alleni Sul prato verde Dello stadio Zaccheria Se ci racconti Insomma Come ti stai trovando Qui a Foggia In un'altra città Del sud Spesso citata Dai telegiornali Per problematiche Negative Ma poi Insomma Persone come te Ma Faccio riferimento Anche a Davide Peterman A Garattoni A Gegé Dursi Che hanno avuto modo Di raccontarsi A questi microfoni Hanno tutti parlato Bene Di una città Calda del sud Ma anche di una città Che accoglie Chi dà tutto Chi lega il proprio cuore A questi colori Quando Le chiamate Arrivato per Foggia Subito ho detto Sì Perché lo so Questa piazza Ho giocato qua Tre o quattro volte Con Palermo Con Salinitana Lo so che Ambiente È molto caldo Loro Loro cerca Loro vogliono più di giocatori Se tu riesci a giocare In piazza così Posso giocare In tutte le piazze Perché piazza così È molto Molto caldo Si dà tanta Si dà tanta A te piace mangiare? Piace la cucina italiana? Sì Assai Assai Allora andiamo avanti Con la prossima immagine Non so se hai già avuto modo Di scoprire Qualche piatto Tipico foggiano Questa si chiama Pasta Rucola E patate Sai come si dice in foggiano? No Pasta Rucola E patone Se lo ripeti E poi chiudiamo Moses ti lasciamo andare Pasta Rucola E patone Moses noi ti ringraziamo Per essere stato con noi Tu sei uno Dei tanti Beniamini Qui a Foggia E ti ringraziamo Per aver portato Il tuo sorriso In questo spogliatoio E in questo stadio Grazie 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 a voi Grazie